A Ronda Nera nel comune di Travo la frana fa ancora paura. Da ieri sera alle 20 a questa mattina l'ammasso di fango ha rallentato la furia del proprio percorso perché ha incontrato una briglia costruita negli anni 60. Ma una volta superato l'ostacolo la frana è nuovamente avanzata di 7 metri e altrettanti ne ha percorsi nell'arco del pomeriggio. Gli operai del comune insieme all'amministrazione di Travo continuano a compiere sopralluoghi sul posto per monitorare l'avanzamento della frana. Ieri sono arrivati per un sopralluogo i responsabili della regione che hanno fatto il punto sulla situazione del dissesto idrogeologico. Il geologo Lanfranco Zanolini del servizio tecnico di Bacino si è recato con l'ingegnere Daniele Perazzi sui luoghi delle frane e specialmente su quella di Ronda Nera accompagnate dal sindaco Lodovico Albasi e dall'assessore Luigi Mazzocchi. Sembra che la traiettoria del gigantesco ammasso di fango non mette in pericolo le abitazioni del paese che contano una ventina di residenti. La speranza è che la frana resti il proprio percorso. Rimane a rischio l'azienda agricola che si trova appena di sotto del paese sempre che la frana non s'arresti prima di raggiungere la stalla con gli animali.